Ciao a tutti ragazzi, sono Karen, Brian, qualcosa e via dicendo, e oggi sono qui per denunciare uno degli atti di vandalismo più grandi che la community italiana abbia mai subito negli ultimi quattro anni di Capitano Subasa Dream Team. Purtroppo, settimana scorsa c'è stato un atto di vandalismo da parte di Bardelnabbo che non è stato denunciato pubblicamente perché stavo aspettando di raccogliere abbastanza prove per poter denunciare il tutto. In una live di venerdì, se non sbaglio, di venerdì scorso all'incirca, Bard era ospite in un canale di YouTube dello strano nerd, ovvero Gennaro, una persona gentilissima, molto dolce, molto sistemata, in cui ha posto varie questioni a Bard e Bard ha risposto. Logicamente, come qualsiasi persona ospite deve fare in un talk show, deve rispondere alla fine qua ci siamo. Da lì la chat ha posto delle domande a Bard e qui c'è stato purtroppo lo scrisso che ha diviso la community in due per sempre. La community in due per sempre è stata divisa perché? Ve lo spiego subito perché è stata divisa. La community in due è stata divisa perché? Perché Bard ha mentito spudoratamente il live streaming. Lo so, lo so, shock. Lo so, shock. Anche io, prima reazione shock. Nei commenti c'era un certo Brian che scriveva a Bard sei bello. Bard ha risposto pubblicamente il live streaming, quindi c'è anche il video che potete andare a recuperare, che lui non era così bello, che lui non si portava così giovane, eccetera, eccetera. Allora, in quel momento, sono rimasto scioccato da queste parole che mi hanno trafitto il cuore e passato un paletto d'acqua a qua. È stata una cosa orribilante. Fare complimenti a una persona che tu pensi che sia un idolo e quell'idolo butta via i tuoi complimenti. Questa è una cosa bruttissima che non si dovrebbe mai e puoi mai fare. Allora, in quel momento, ho deciso di iniziare a contattare i più grandi pilastri della community italiana, quindi tutti gli italiani che sono nell'S4, nel Superstar 4 alto. Quindi si sa bene, no? Se sei Superstar 4, automaticamente sei intelligente, hai buon gusto, cioè è la logica. Più alto sei nel rango, più potere decisionale hai nella community. Quindi ho contattato persone del calibro di RS Barda, Wurzappa, BB Umbivev, Daigon, che il campione è in carica, la persona che... cioè, se dice questo è bello, quello è bello, se dice questo è brutto, questo è brutto, ho contattato Daigon, e hanno tutti quanti detto la stessa identica cosa, ovvero che Barda è bello. Là c'è stato un momento di shock generale in cui ho capito che Barda era un bugiardo, ma, ma, sono arrivato a parlare con Mike Soscia. Mike Soscia non è Mike Soscia, quindi è Mike Soscia, che è un famoso youtuber ungherese di Dream Team che mi ha raccontato che Barda usa un famoso algoritmo per riuscire a deviare le persone e quindi anche se tu cerchi in qualche modo la parola bello e l'associa a Barda, ti uscirà a Barda il nabbo. Quindi in realtà Barda sfrutta questa cosa di bellezza a suo vantaggio senza dire a nessuno la verità, cosa altamente da denunciare, ma proprio una cosa vergognosa. Andiamo un attimo nella barra delle ricerche e cerchiamo subito Barde il bello. Che cosa esce? Barde il nabbo. E qua la reazione già è stata shock. Qualcuno di voi mi dirà, oh cazzo Fabio, ma allora è vero quello che stai dicendo? Certo che è vero. Mi pare che facevo un video di tre minuti con un'informazione falsa. Certo che è vero, porca puttana. Ma, 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 fermiamoci qua. Non è ancora finita qua. Qualcuno può dire, ok, ma c'è scritto Barde, quindi l'algoritmo di YouTube non potrebbe essere colpa di Barde. Non è Barde che ha messo nelle ricerche del suo canale il bello. Ed è qua che arriviamo, grazie alle informazioni del mio youtuber ungherese Mike Shosha. Era Mike Shosha, non mi ricordo, vabbè, comunque arriviamo al punto specifico. Barde il bello esce Barde e qua lui può ancora salvarsi dicendo che è l'algoritmo di YouTube. Quindi scriviamo Capitan, so senza occhiali, Capitan Subasa Dream Team Il bello. esce sempre Barde il nabbo. Ok, ok. Allora, se questo non è il più grande caso di denuncia sociale per una falsità detta durante una live con tanto di proprie annesse, io non so più che cosa dire. Io non so più che cosa dire. Invito tutti a disiscriversi dal canale di Barde il bugiardo, perché questo non è più il bello, è il bugiardo. Questa è una denuncia sociale, sono Fabio Rippa e denuncio il Barde. Chiuso, finito. Adios. Sayonara. Non trovo il tasto per chiudere la cosa. Adios. Sayonara.